Hanno lavorato per tutta la notte una cinquantina di vigili del fuoco per spegnere il feroce incendio che dalla notte di ieri sta interessando un'area di circa 20.000 metri quadrati nella zona portuale di Ancona. Sono ancora attivi i residui focolai all'interno dei capannoli bruciati che risultano pericolanti e difficilmente accessibili. I residui dei materiali depositati bruciati stanno rilasciando ancora fumo ma non ci sarebbero più pericoli di una ripresa delle fiamme tanto che questa mattina sono iniziate le operazioni di smassamento. I parchi e scuole anche oggi restano chiusi, ripetuto l'invito a chiudere bene le finestre a uscire solo se è indispensabile, a lavare bene la verdura. Oltre all'acido cianidrico si cercano tracce eventuali di diossina e metalli. I titolari delle sei aziende in concessione del gigantesco capannone dell'ex Tubimar nel cuore del porto hanno assicurato che non c'erano materiali classificati come pericolosi. Sulle cause del ruoco si tende al momento ad escludere un atto doloso ma qualche dubbio resta al momento la pista più accreditata dagli inquirenti sembra essere quella del cortocircuito all'impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone. Qualche dettaglio in più potrebbe arrivare una volta spento definitivamente il ruoco e messa in sicurezza l'aria per cercare eventuali inneschi o indizi importanti.